L'amico Fritz dice, scusate ma cosa suoni? In realtà metti i dischi, i dischi sono già suonati e allora ascolti questa canzone che si intitola i dischi e non si suonano. Questa sera sono a suonare all'aperitivo, tutti i venerdì io suono all'aperitivo. Hai presente quel locale figo alternativo? Ecco io ci sono sempre per l'aperitivo. Alle sette in punto patto, carico e suono, ma devi vedere che persone che ci sono. Bella gente figa che si muove mentre suono, disco dopo disco e ti dimostro quelli che sono. Scusa dico io, giusto per capire cosa impendi quando dici che sta senza suonare, perché scusa lo sai, metti a tempo due dischi, solo a tempo lo sai, schiacci me e poi vai. Perché se ci vuoi entrare le canzoni e continui a suonare, potrei tranquillamente respirare e respirare. Nell'armani lo so, dove c'è da fare, perché non ci ricorda e non ti amo. Nell'armani lo so, dove c'è da fare, perché non ti amo. suonare la preside di un club, quando inizia a suonare tutto il club impazzisce e definitivamente suono, si diceva come vinci, e stasera se ti va alzami a salutare, e te gli chiesi mi provo che ti faccio passare, sai da quando sono lì, mi fanno comandare, mi riproporono i soldi per andare a suonare, scusa dico io ancora per capire, cosa intendi quando dici che stasera sei a suonare, perché scusa lo sai, pensi a tempo che gli islami, solo a te lo sai, si caccia in lei e poi vanno, perché se sintonizzano le canzoni, voglio suonare, non poterlo internamente entra a sfidare, per armani lo so, per spiappar, pure viene a chi non c'era la prima, ma i dischi non si suonano, 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 No! Grazie.